Ora che il super zampone si protrae dal 1989, il primo super zampone era, pensate, 224 kg e oggi abbiamo raggiunto i 751. Quindi vorrei ancora un grande applauso a tutti gli operatori, a tutti i volontari, a tutti coloro che hanno permesso che questa giornata possa essere una giornata di festa per tutti voi. Grazie.